video queste cose vanno assolutamente fatte allora un ringraziamento in primitis a chiunque voi ci siate anche se magari non sono sicuro se ci conosciamo comunque a chi si è iscritto al mio canale chi mi segue chi mi mette un mi piace queste cose sul mio canale io vi ringrazio un ringraziamento poi potrebbe essere particolare benevole all'ultimo iscritto al mio canale circa tre minuti fa e devo dirlo ciao grazie Manuel e adesso non mi ricordo veramente perdonami quale Manuel tu sia ma guarda puoi anche scrivermi qualcosa non importa puoi fare quello che vuoi insomma mettimi un commento quello che vuoi poi vorrei fare un video sugli oggetti aspetta gli oggetti sia vintage che moderni che si deve per forza secondo tutti avere nella vita tra cui cellulari c'è la moda delle catene d'oro e dei rapper queste cose ma io se metterei una catena d'oro rapper d'oro addosso cioè tendenzialmente lo voglio fare ma pesa non pesa quanto pesa perché oro ma pesa verso i confronti della società no tutti espondi troppo e credono che tu creda che io creda che gli altri siano povero poveri nei nei in confronto a meno voglio una bilancia equaggiata cioè come ti dico stabile non voglio giudicare nessuno e nessuno mi giudica a me siamo a posto e questo è il bello della vita no andare d'accordo problemi diciamo che tra virgolette non ci sono più no come lockdown e queste cose mascherine buone mascherine io lo consiglio a tutti di mettere lo stesso una mascherina perché non si sa mai che purtroppo la malattia che circolava e circola gruppo convite queste cose magari c'è ancora un po sai è sempre un rischio se ti va bene sei positivo e senza sintomi ma amici ho avuto brutte storie di amicizie che erano ricoverati in centro crisi circa credo padova e intubati sai queste storie che fa venire i brividi ok chiudiamo la telecamera un ringraziamento a tutti voi a tutti coloro che siete migliori perché mi seguite il mio canale grazie vorrei abbracciarvi tutti e sempre fra virgolette a quelle ragazze quelle donne che ancora non hanno coraggio non hanno voglia non so perché che abbiamo parlato e tutto vi ho detto iscrivetevi commentatevi al mio canale ancora mi pare però certe non l'avete fatto dai iscrivetevi al mio canale ragazze donne chiunque voi siate ciao belli e ciao belle ciao ciao